Balene e ingegneria acustica? Ebbene sì, l'ingegneria viene utilizzata anche per studiare il comportamento di questi animali. Questa disciplina, nota come bioacustica, si focalizza sull'analisi delle onde sonore emesse da queste creature marine e sul loro impatto ambientale. Lo studio si basa sull'analisi di frequenza, ampiezza, durata e struttura spettrale delle onde sonore per comprendere il comportamento delle balene, le loro interazioni sociali, la ricerca del cibo e la navigazione. Inoltre si esplorano le proprietà fisiche dell'ambiente marino, come la propagazione delle onde sonore nell'acqua per valutare l'influenza dell'acustica sottomarina sulle balene e sugli altri organismi marini. Queste informazioni possono essere applicate nella progettazione di sistemi di rilevamento e localizzazione acustica, come arrei di idrofoni, per tracciare le rotte migratorie delle balene e migliorare la gestione degli habitat marini. E non dimenticate la cosa più importante, di iscrivervi ad Ingegneria Italia.